buongiorno a tutti amici juventini come state allora come sempre attivate la campanella e scrivetevi prima scrivetevi e poi attivate la campanella commentate il video così ci scambiamo le opinioni e mi piace i contenuti allora ore 18 bergamo juventus atalanta o meglio atalanta juventus è stato intervistato dal giornale la repubblica giuntoli allegri ha fatto la sua conferenza stampa e daremo uno sguardo alle probabili alla probabile formazione allora intervista giuntoli sostanzialmente ha ripetuto più o meno tutte le cose che già allegri ci ha detto in passato nelle passate conferenze stampa cioè che la juve deve puntare al ritorno in champions la sostenibilità per il quarto posto ce la dobbiamo giocare con la fiorentina la lazio la roma e l'atalanta le squadre più attrezzate dalla nostra sono inter milan e napoli poi ha detto che comunque la juventus sta creando valore ha dato uno sguardo anche al suo passato parlando dei suoi viaggi in macchina della sua guidata fino ad amsterdam per vedere la juve perdere con dire a madrid con un gol in fuori gioco che ancora non ha digerito e sinceramente anch'io non l'ho digerito probabilmente anche voi e ha detto che allegri è la punta di diamante della squadra la juventus che deve adeguarsi all'allenatore e non l'allenatore ai giocatori che ha dobbiamo cosa possiamo commentare su questa frase allegri indubbiamente un allenatore vincente se ha vinto tanto però io credo che in questi ultimi anni non sia al passo coi tempi quindi dubito un po che sia la punta di diamante della squadra però se lo dice giuntoli ci fidiamo conferenza stampa juve allegri allora allegri ci ha anticipato che non ci saranno vlaovic e milic quindi probabilmente l'attacco sarà formato da chiesa e moise ken ha altissime probabilità di giocare che era nildiz gli è stato chiesto se in difesa rugani sarà di nuovo titolare e ha fatto capire che probabilmente giocherà di nuovo gatti perché era tanto che non giocava rugani e ha avuto dei fastidi ai muscoli quindi ha detto che la partita contro l'atalanta sarà una partita dura una squadra che è molto difficile da affrontare una squadra che gioca in modo diverso rispetto all'atalanta che però ti può fare molto male e bisogna stare attenti la concentrazione deve essere alta però siamo fiduciosi probabile formazione allora in porta confermatissimo scesni in difesa gatti bremer e danilo centro campo con rabbio locatelli e fagioli sulle fasce kostic e wea in attacco chiesa moise ken e speriamo di fare una grande vittoria un saluto a tutti e buona giornata